Credi in un'informazione libera, indipendente, pluralista ed efficace? Noi abbiamo un grande progetto per insegnare ai giovani e a tutti i cittadini interessati come diffondere una comunicazione libera, come divulgare le proprie idee e attività online, come comunicare in modo più smart, organizzeremo incontri con esperti del settore, giornalisti, imprenditori, istituzioni, faremo fare dei training ed esperienze sul campo affinché la teoria si consolidi con la pratica. Informati su www.rexando.it barra bill. Troverai maggiore informazioni ed il link per votare online il progetto. Inserisci i tuoi dati, seleziona Proposta condivisa, Solidarietà e lavoro e indica Progetto Rexando. Un tuo semplice gesto per il futuro di San Donato è la libertà dei suoi cittadini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.